Natale 2020 Quest'anno non è iniziato nel migliore dei modi, ma voi ragazzi siete stati grandi. Siete rientrati a scuola un po' arrugginiti, ma avete studiato tanto. Vi siete messi in gioco e avete dimostrato quanto siete in gamba. Finalmente è arrivato Natale e noi maestre volevamo farvi un augurio speciale. Vi auguriamo di avere tempo per vivere questo periodo in serenità. Tempo per stare insieme alla vostra famiglia. Tempo per godervi tutti insieme la colazione. Tempo per giocare, ridere e sognare. In questo periodo imparerete ad apprezzare quello che avete. Perché nulla è scontato, perché nulla è dovuto, perché tutto è un dono. Imparerete a godervi con serenità l'affetto della vostra famiglia, pensando a chi una famiglia non ce l'ha. Imparerete che la felicità non sta nelle cose, ma nella presenza delle persone accanto a noi. Imparerete a vivere la noia come un'opportunità di riflessione. Imparerete a diventare grandi. Imparerete a diventare condoni supera. Sous-titrage ST' 501